Come stai? In piazza Municipi due cavalli, non quelli di Bronzo, ma Giorgio e Francesco, così si chiamano, ci provano a strappare turisti ai bus rossi bipiani, del resto i prezzi mica sono quelli di Roma. Questi bus ci hanno guaiato a noi. Fanno concorrenza? Fanno concorrenza, ci hanno guaiato a noi. Turisti bene perché c'è una bellissima carrozza 41, lo porto per Santa Lucina, piazza del Biscita, la via Caraccia, piazza Vittoria, faccio un giro di carrozzelli, minimo una quarantina di rep, non come Roma, 200 e 300 e da parte mi rimano contento, siamo da 3-4 carrozzelli. Silvestro Ariosto e Vincenzo Amato sono rimasti per tutto il mese di agosto in città, continuando una tradizione avviata dai loro nonni. Nonostante la crisi, il loro lavoro sembra aver trovato nuova linfa. Se poi l'amministrazione comunale decidesse di dare una mano, loro qualche proposta ce l'hanno. Voglio dire al sindaco, noi abbiamo qua, a Maschioncioline, sotto, ci stanno dei stallaggi vecchi, che prima, diciamo, mano antica, ci stavano, la gente che i cavalli e tutto, perché non abbiamo questi bocchi che stanno sotto e possiamo utilizzarli noi perché i cavalli non fanno molta strada per andare a casa.